Se state iniziando ad avvicinarvi al mondo degli NFT, dovete stare molto attenti all'enorme quantità di scam che avvengono all'ordine del giorno. Ci sono infatti moltissimi truffatori che aspettano e sperano in un vostro errore solamente per potervi svuotare il conto o comunque derubarvi in qualche modo. Dovete ricordare infatti che il web 3, il web decentralizzato, è un punto di forza sotto alcuni aspetti ma è anche uno svantaggio sotto altri. Se effettuaste un pagamento tramite i Paypal e per qualsiasi motivo veniste truffati, vi basterebbe mandare una mail o comunque scrivere un messaggio all'assistenza di Paypal e ricevereste i vostri soldi indietro. Mentre nel mondo del web decentralizzato, e in questo caso parlo nello specifico di portafogli dove detenete le chiavi private del vostro wallet, come ad esempio Metamask, ma non mi riferisco a tutti quegli exchange come Binance che attualmente sono delle piattaforme centralizzate. Ecco che in questo secondo scenario non avete nessuno con cui andare a lamentarvi se veniste truffati, perché in questo caso siete proprio voi i detentori dei vostri soldi. Proprio per questo nel video di oggi andremo a vedere ogni singolo tipo di scam nel quale potreste incappare, così che voi e soprattutto il vostro wallet siate il più al sicuro possibile. Se siete interessati a questo tipo di contenuti vi chiedo di iscrivervi al canale e lasciare like, così da crescere la nostra community. Vi dico inoltre che nel banner del mio canale, ma anche qui sotto in descrizione, vi lascio il link per poter accedere al mio canale Discord. Così facendo potrete parlare direttamente con me, ma anche con moltissimi altri appassionati del mondo NFT. Ed è proprio sul mio gruppo Discord che al raggiungimento dei 1000 iscritti su YouTube darò accesso a 500 di voi alla whitelist del mio progetto NFT. Ed è proprio così che 500 di voi potranno mintare un mio NFT sostanzialmente gratis. Infatti darò l'accesso a questi 500 a una whitelist dove l'NFT verrà mintato a 15 centesimi. Questo solamente perché se mettessi un prezzo inferiore a 15 centesimi la transazione non andrebbe a buon fine. O meglio, andrebbe a buon fine una volta sì e 9 no. Quindi semplicemente per ovviare a questo problema metterò un prezzo di 15 centesimi che è comunque irrisorio. Torniamo a noi. Se pensate di essere stati truffati o se pensate che il vostro metamask sia già compromesso, vi rimando a questo video che vi lascio nelle schede dove trattiamo l'argomento nello specifico. Se invece volete sapere come fare per prevenire questo tipo di truffe, semplicemente andate avanti con il video. Sostanzialmente le truffe in questo mondo si dividono in tre grandi famiglie. Le truffe da seed fishing dove sostanzialmente qualcuno sotto mentite spoglie si finge un ente autorevole come magari il team di Binance, il team di OpenSea, il team di Crypto.com e cerca di farci rivelare dei dati sensibili. E poi abbiamo le truffe dai link di trading e le truffe provenienti dai social media. Ora ve le riassumo più in generale. Molto spesso vengono utilizzate le truffe da fake support. È successo proprio a me, non in ambito NFT ma in ambito crypto, che Binance stava avendo dei problemi, ne stavamo discutendo su un gruppo dedicato e mi ha scritto in privato un utente fingendosi il Binance Customer Service, dicendomi che per risolvere quel problema dovevo semplicemente creare un nuovo account, inviare i soldi dal mio account vecchio a un loro indirizzo e una volta che avessi creato il nuovo account, loro mi avrebbero rinviato tutti i fondi. Ovviamente io non lo feci, ma indovinate un po', se lo avessi fatto, indovinate quanti soldi mi sarebbero tornati indietro? Ovviamente zero. Sempre per restare a tema, un'altra truffa molto simile avviene sulla piattaforma Twitter. Infatti vi sfido, o anzi no, non lo fate, a scrivere con un post, meglio ancora, in inglese, di avere un problema con il vostro Metamask o con il vostro Trust Wallet o comunque qualsiasi wallet che sia possibile utilizzare per acquistare crypto ed NFT. State sicuri che sotto quel post vi arriveranno decine se non centinaia di commenti di qualcuno che si finge l'assistenza clienti o comunque qualcuno che dice di potervi risolvere il problema, ma che al 99,9999 tantissimi 9% vi vuole truffare. Un'altra truffa molto frequente è quella dei fake trading links. Infatti se su qualche gruppo di Discord o magari Telegram vi metteste d'accordo con qualcuno per comprare un suo NFT ma non direttamente da OpenSea, bensì tramite un link che vi invia lui che promette di riportarvi a piattaforme come OpenSea, NFT Trader o Rarible, comunque qualsiasi tipo di queste piattaforme di scambio NFT ma che magari se poi andaste a controllare la URL del sito web sarebbe leggermente diversa da quella originale. E in questi siti magari andando a cliccare buy per comprare l'NFT vi apparirà una transazione da confermare con Metamask ma che voi non sapete che in realtà state dando il consenso semplicemente per svuotarvi il conto o magari in generale per averne accesso in quel momento ma anche in futuro. Altra truffa molto comune è quella degli airdrop. Infatti se entraste in gruppi Discord o Telegram non ufficiali dove si parla di NFT o criptovalute vedrete che molto spesso arriveranno messaggi che dicono di partecipare a un contest per vincere un airdrop. Per carità esistono anche airdrop leciti ma in questi gruppi molto spesso vengono mandati link di airdrop illeciti invece. E voi cliccando su quel link e magari dando accesso al vostro Metamask perché vi dice che cliccando il link i soldi vi verranno accreditati sul vostro Metamask appunto invece state solamente dando il consenso per farvi scammare tutto il portafoglio. Sempre parlando di questi link che vengono inviati su gruppi Discord possiamo anche dire che esistono dei fake Discord server semplicemente dei gruppi Discord replicati uguali agli originali magari con un esempio pratico riesco a spiegarmi meglio. Fate conto che esiste il gruppo Discord dei Bored Deput Club ed infatti esiste e che un malintenzionato crea un server Discord con lo stesso nome e magari con lo stesso lato estetico magari compra anche dei bot per far risultare che quel server Discord è pieno di utenti quando invece non lo è e tutti i link, magari giveaway, magari airdrop che saranno inviati in quel server Discord saranno solamente atti a scammare la community. Sempre restando a tema Discord non potete fidarvi appieno senza fare le vostre ricerche e senza prima informarvi un minimo nemmeno dei gruppi ufficiali. Questo non perché i team dietro i progetti NFT scammano o meglio a volte succede ma diciamo che non succede per collezioni grandi con grande fama però è successo più volte che dei server Discord ufficiali venissero hackerati e che questi hacker fornissero dei link che venivano spacciati come reali, come affidabili per magari vincere airdrop o per mintare NFT a basso prezzo quando in realtà facevano mintare altri NFT non quelli originali della collezione ovviamente ad un prezzo spropositato per le NFT che si andava a mintare e quindi il truffatore si faceva tutti questi soldi alle spalle di questi malcapitati. Poi esistono anche i fake giveaway semplicemente come succede molto spesso che ci vediamo recapitare delle mail con scritto clicca qui per vincere il tuo iPhone sta succedendo anche con dei link che ti dicono clicca qui e hai vinto questa NFT e magari la mail arriva da OpenSea come nome utilizzato nella mail ma che se poi si andasse a cliccare davvero l'indirizzo completo della mail sarebbe magari OpenSea con tantissime lettere dopo e che quindi non sono affidabili non sono quelli originali. Spulciando un po' la rete sto notando che moltissime persone si lamentano di essere state truffate dopo che magari tramite mail o tramite messaggio privato in qualche social network ricevono consigli con annessi ovviamente link che permettono di fargli verificare la collezione su OpenSea e quindi io ci tengo a dirvi che non è possibile in nessun modo se non direttamente da OpenSea verificare una collezione di NFT e tra l'altro i requisiti per verificare una collezione sono molto alti adesso io non so le cifre precise però ad esempio facciamo caso che per verificare una collezione di NFT su OpenSea questa collezione in un mese debba aver spostato almeno un volume di 50 Ethereum che comunque non è un valore basso non ci sono altri modi che si discostano da questi per arrivare ad avere una collezione verificata senza rispettare questi termini quindi diffidate da qualsiasi link e da qualsiasi persona vi scriva per dirvi che questa cosa è possibile perché non lo è un altro problema molto grave è quello delle Google Ads infatti se cercaste OpenSea ad esempio su Google molto spesso non trovate come primo risultato di ricerca OpenSea, quello originale ma una Google Ads ovvero qualcuno che ha pagato per far apparire quel sito web sopra tutti gli altri e magari qualcuno non ci pensa e clicca sul primo link ma in realtà non sta aprendo OpenSea magari un altro sito web con un dominio anche molto simile magari differente solamente per una lettera e che abbia come interfaccia grafica letteralmente quella di OpenSea quindi magari non ci pensa e qualsiasi transazione che effetta su quel marketplace in realtà gli ruba i soldi senza però dare in cambio magari la NFT che stava comprando per ovviare a questo problema io vi consiglio semplicemente di entrare su OpenSea quello reale verificando l'URL ed aggiungerlo ai preferiti del vostro browser così che poi una volta che volesse andarlo ad aprire lo aprirete direttamente dai preferiti senza passare per il motore di ricerca un'altra truffa molto utilizzata è quella di vendere asset ovvero NFT in questo caso che però sono stati rubati e non so se lo sapete infatti ma se qualcuno dovesse hackerarvi e rubarvi un NFT uno o più NFT ovviamente voi potete scrivere all'assistenza di OpenSea e far bloccare quegli NFT ovvero i metadati di quegli NFT sarebbero frizzati così che se anche il truffatore cercasse di rivenderli non potrebbe rivenderli a nessuno perché OpenSea li farebbe risultare come rubati e ovviamente ne vederebbe la vendita il problema però sta su altre piattaforme come ad esempio Rarible dove se un NFT venisse bloccato da OpenSea sì non sarebbe più acquistabile su OpenSea ma su piattaforme come Rarible potrebbe essere ancora acquistato quindi se voi andaste su Rarible e compraste un NFT magari con un prezzo molto 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 basso rispetto a quello che dovrebbe essere per la collezione alla quale appartiene potreste venire truffati quindi se lo voleste comprare magari controllate prima anche su OpenSea per vedere se è tutto a posto se è tutto in regola l'ultima truffa che voglio nominare è quella del click to verify the ownership come magari succede anche su altre piattaforme come ad esempio le mail che arrivano che si fingono email di Google dove dicono clicca per verificare che il proprietario dell'account sei davvero tu lo stesso sta iniziando a succedere da mail che si spacciano per il team di OpenSea per il team di Metamask per il team di Binance e comunque di tutti questi tipi di piattaforme dove sostanzialmente se andaste a cliccare il link magari vi riporterebbe a una pagina che è letteralmente uguale a quella originale se non magari per l'URL che se andaste a controllarla sarebbe leggermente diversa e se inseriste i vostri dati all'interno come ad esempio lo username la password i codici di autenticazione di Google e magari anche quello dell'SMS loro avrebbero semplicemente l'accesso a tutto il vostro account e da lì potrebbero fare quello che vogliono rubarvi NFT rubarvi crypto mandarsi transazioni a loro e sostanzialmente quindi truffarvi e anche per questo video è tutto se pensate che queste informazioni possano essere utili anche a qualcun altro perché magari sapete che si trova in una situazione simile condividete il video con questa persona ma in generale con più persone possibili così da far arrivare questo messaggio appunto a chiunque ne possa aver bisogno se vi sono stato utile lasciate like iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per far crescere la nostra community io vi saluto e alla prossima ciao 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 ciao